Buongiorno a tutti, qui Ardino Schenato da Yardforex e in questo video voglio parlarvi di fake out, di movimenti falsi e recuperati e soprattutto questi quando avvengono nella direzione del trend o comunque del movimento di breve in essere. Allora, prendo come esempio una situazione che è accaduta poco tempo fa sul dollaro yen. Come potete notare c'è stato un massimo importante con un forte declino dei prezzi e aumento di volatilità, quindi movimento di tendenza che ha mostrato il mercato short. Quindi in questo caso dopo il movimento di forte tendenza short, quindi di aumento di volatilità short, quello che si può andare a fare è ricercare un swing per andare a continuare la tendenza del trend. In questo caso specifico avevamo anche quelli che vedete qui segnati da me, sono i livelli settimanali, avevamo dei livelli e c'è stato proprio qui, vedete, dopo il grande movimento di volatilità, un recupero con una tenuta di questa zona. Il mercato poi è sceso, qui ovviamente si potevano anche pensare delle strategie di price action, indecision bar eccetera, ma la cosa che voglio farvi vedere io è il fake out in un movimento di trend. E' uno dei più bei fake out in un movimento di tendenza è quello di andare al fake out del pull back. Quindi in questo caso il movimento di tendenza è molto forte e di repentino verso il basso, abbiamo un recupero dell'area 107,5 e un ritorno verso i 107,5 rompendoli. Quindi ha fatto praticamente quella che viene chiamato fake out del pull back. Quindi movimento sopra, addirittura con una chiusura, vedete, al di sopra c'è stato il primo approccio di questi livelli. Quindi movimento in alto, poi chiusura sopra questa zona e addirittura la giornata successiva una barra doppio massimo lower, tra l'altro quindi confermativa anche con uno dei miei input, ma non è necessario per forza che il segnale sia uno dei miei. Questo è un fake out, è ovvio che se abbiamo una pin bar o un inside fake out o un doppio massimo lower, questo è ancora più confermativo ed è una confluence, però notiamo questo false breakout, questo fake out di un pull back e quando c'è un fake out di pull back la conferma che il mercato può scendere. Quindi in questo caso, già avendo un pattern confermativo come questo, la cosa interessante è andare a ricercare magari un'entrata sul pull back. E quindi se noi andiamo a prendere proprio questo tipo di mercato in questo caso qui, facciamo così così, vediamo un po' nell'ottica di... Benissimo, eccolo qua, ed se andiamo e ingrandiamo un pochino la struttura, ecco qua, il fake out, bene, ecco qui, quindi boom, fake out della tendenza, perché anche questo è un fake out, è vero, porta i prezzi su, per carità, però quello che vorrei tradare io in questo caso si può anche tradare questo in ottica di breve termine, ma quello che volevo mostrarvi oggi è un fake out del pull back e questo è un chiaro fake out del pull back, c'è stato quindi il doppio massimo lower, breakout del minimo, quindi ha creato i presupposti per entrare nel trade e in questo caso si può decidere se fare un'entrata magari sul 20% di ritracciamento, sul 38,2, sul 50, sul 61,8, sapete insomma che spesso dopo movimenti di ampia volatilità il prezzo tende a ritracciare di circa la metà, quindi tra il 38 e il 50 è possibile piazzare, quindi questa zona qui, vedete, lui ha fatto poi nella candela, questa qui, bianca, dopo qualche giorno ha fatto proprio il 50% e poi il mercato è iniziato a scendere, ovviamente qui lo stop deve essere impostato qui sopra, quindi ricapitoliamo come poi si va a leggere e magari fare anche questa operazione, conferma perché un fake out del pull back è una conferma già che il mercato può scendere, quindi si può già inserire un ordine, non serve diciamo un ulteriore conferma 4 ore, per carità si può anche trovare, ma non è necessario, in questo caso c'è una conferma perché un fake out di un pull back è già una grandissima conferma del mercato per quanto riguarda la direzione dei giorni successivi e quindi una volta poi che si rompe il minimo di questa giornata si può andare a cercare un entry tra il 38,2 e il 50% di ritracciamento nei 3, 4, 5 giorni successivi, ovviamente dico 3, 4, 5 giorni successivi a meno che il giorno successivo subito o nei due giorni successivi il mercato senza eseguirci ci vada già a fare un movimento di quasi uno a uno della barra setup, del fake out, allora a quel punto si toglierà l'ordine, ma se rimaniamo in questa zona si può tenere anche qualche giorno in più, cioè il prezzo rimane lì, potrebbe fare spike e poi recuperare. Molto interessante quindi questa dinamica e come potete vedere poi i target, ovviamente se io vado a impostare per esempio un'entrata su questo livello, lo stop deve essere impostato qui. Nel momento in cui io vado ad avere la prima barra di swing che diventa questa, ok? Perché qui viene poi rotto il minimo e rotto il minimo, quindi il swing è questo. Si può decidere di diminuire completamente lo stop andando quasi a portarsi a break even con uno stop con un rischio ridicolo rispetto al rischio iniziale, quindi se avevo rischiato l'1% qui magari vado allo 0,10, ok? E avere una posizione che poi si gestirà con i target principali. Sapete che i nostri target principali sono il T3, eccolo qui, che corrisponde in questo caso con questa zona e il T5 che corrisponde con questa zona. Che in questo caso specifico, entrata su questo livello, sul T3, corrisponde circa a un 1 a 2 di rapporto di risk reward e invece sul T5, 1 a 3, 1 a 4, corrisponde circa a un 1 a 4. Quindi questo è il nostro modo di fare trading sul fake out del pullback. Sicuramente una cosa molto interessante che accade e che è molto molto bella da vedere. In realtà, e qui finisco, ce n'è anche una abbastanza chiara qui, più avanti. Ecco qui. Cancello il Fibonacci così si capisce meglio. Ecco qui, anche qui vedete cosa succede? C'è stato movimento, movimento di tendenza, pullback recupero, quindi il mercato potrebbe continuare, falso fake out del pullback. Eccolo qua. Fake out del pullback, giorno dopo mi chiude questa qui nera, il giorno successivo si può cercare un'entrata all'interno di questa zona per poi ritrovare una nuova posizione short. Quindi i fake out dei pullback sono sicuramente una delle cose più interessanti in price action avanzata che potete andare a lavorare e su cui andare a fare la vostra operatività ed è quello che poi noi in Airforex spesso facciamo. Io a questo punto vi saluto, spero che anche questo video sia stato molto interessante, ne farò altri su queste dinamiche e ci vedremo presto nel prossimo. Grazie a tutti.